Ciao ragazzi, in questo video vedrete come fare la crema di sesamo economica, le sue proprietà, come usarla e perché dovreste aggiungerla nella vostra alimentazione. Il video per comodità è suddiviso in capitoli, quindi se volete potete andare direttamente alla parte che vi interessa di più. Personalmente uso la tajina da tanti anni e quando ho visto che i prezzi sono aumentati tantissimo, ho imparato a farla in casa. Ho visto delle creme di sesamo addirittura a 26 euro al chilo, quando i semi di sesamo costano invece 7 euro al chilo oppure 11 euro al chilo quelli biologici. Quindi vedrete insieme a me come fare questa fantastica crema di sesamo in casa per risparmiare soldi, per controllare ogni singolo ingrediente e come sfruttarla in cucina. Partiamo dalle proprietà della tajina. Intanto partiamo dal fatto che la crema di sesamo contiene più calcio del latte vaccino a parità di peso. Contiene addirittura il ferro e non solo, è ricca di proteine vegetali, fibre e grassi acidi buoni. Inoltre contiene il rame, il magnesio, lo zinco e il manganese. Insomma proprio un bel connubio di nutrienti. Oltre ad essere un super alimento fa veramente miracoli in cucina, quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine. Vediamo subito come preparare la tajina in casa in modo semplice ed economico. Per fare la tajina ci servono due semplicissimi ingredienti, i semi di sesamo e l'olio vegetale. Come vi dicevo prima i semi di sesamo biologici costano 11 euro al chilo. Io ne prendo 250 grammi per fare un vasetto da 250 e il costo complessivo sarebbe di 2 euro e 75 per questo vasetto. Per un sapore leggermente nocciolato dobbiamo tostare i semi di sesamo. Questo passaggio è molto importante ed è molto delicato. È un passaggio delicato perché i semi di sesamo si bruciano molto facilmente, quindi mi raccomando state attenti, devono diventare solo leggermente dorati. Potete tostare i semi in una padella antiaderente mescolando costantemente finché non diventano appunto dorati, se no potete tostarli nel forno per circa 5-6 minuti. Mi raccomando controllate sempre perché non devono bruciarsi. Prima di frullarli lasciateli raffreddare a temperatura ambiente. Una volta raffreddati potete trasferirli nel frullatore. Potete frullarli sia con un frullatore normale che quello con la lama AS. In ogni caso dovete avere un po' di pazienza perché inizialmente i semi di sesamo si trasformeranno in una specie di farina. Voi fate come vedete nel video, ripulite i bordi e frullate a intervalli per circa 5 minuti. Per non surriscaldare le lame ogni tanto fermatevi e lasciate raffreddare un pochino. Quando inizierete a notare che i semi di sesamo si stanno trasformando in una specie di crema è il momento di aggiungere l'olio. Potete usare l'olio che volete, tante persone usano l'olio di sesamo, a me piace invece aggiungere 20 grammi di olio d'oliva. Una volta che avete aggiunto l'olio frullate ancora per 15-20 secondi e poi controllate la consistenza. Se volete che la crema venga ancora più liquida aggiungete altro olio. Quando siete soddisfatti della consistenza trasferite in un vasetto di vetro ermetico e conservate in frigorifero. Ora prima di darvi qualche ricetta concreta con la tajina vorrei farvi qualche esempio su dove potete utilizzarla. Come potete notare nel video la tajina se viene a contatto con un liquido e se viene mescolata diventa una specie di addensante. Questa cosa è fantastica perché grazie a questa proprietà potete creare dei dressing per le insalate pazzeschi. Io di solito come base metto uno o due cucchiai di tajina e poi aggiungo il succo di mezzo limone. Se mi serve una consistenza un po' più liquida aggiungo semplicemente un po' d'acqua e mescolo ancora. Oltre a fare dei bellissimi dressing per l'insalata potete aggiungere la tajina ad esempio al pesto, potete aggiungere un cucchiaio di tajina al vostro condimento preferito per le verdure al forno, nel sugo della pasta per renderlo più cremoso. Potete spalmarla sul pane integrale con un po' di marmellata sopra in alternativa al burro vaccino oppure il burro di noci in caso di allergie e poi provate anche ad aggiungerla ai frullati, ai gelati fatti in casa, alle zuppe e all'hummus di ceci. Insomma secondo me è un ingrediente veramente molto versatile e adesso vi faccio vedere anche qualche ricettina semplice. Ma prima di passare alle ricette se state già usando la tajina lasciate un commento con le vostre ricette preferite in modo da sperimentare ancora di più con questa bellissima cremina. Intanto partiamo da una ricetta super golosa che si fa con pochi ingredienti. Potete spalmare questa cremina in alternativa ai burri di frutta secca e sta bene sia sul pane che sui pancakes, sui waffle oppure sulle gallette di riso. Ci serve un cucchiaino di tajina, un cucchiaino di sciroppo d'acero oppure agave, un cucchiaino di cacao e ci manca un liquido però intanto mescolate bene questi ingredienti. Come liquido io aggiungo circa mezza tazzina di caffè ma se non volete usare il caffè potete aggiungere semplicemente un po' di latte vegetale. Mescolate bene e regolate la consistenza secondo le vostre esigenze. Se volete che la cremina venga più liquida aggiungete altro liquido, se invece la volete più densa aggiungete altra tajina. E ovviamente potete anche personalizzare la ricetta ad esempio potete aggiungere qualche spezia come la cannella, lo zenzero oppure potete frullare la tajina insieme ai datteri e semi di girasole. Fatemi sapere nei commenti che abbinamento provate che sono curiosa. Ora invece vi svelo la ricetta del mio condimento preferito per l'insalata che d'estate uso quasi tutti i giorni. Allora come prima cosa dovete creare una base per il nostro dressing. Quindi prendete un cucchiaio di tajina e circa due cucchiai d'acqua. Iniziate a mescolare. Man mano che mescolate se vedete che la crema è troppo densa aggiungete altra acqua. A questo punto la nostra base è pronta e possiamo aggiungere i sapori che vogliamo. Anche in questo caso vi faccio vedere quelli che piacciono a me ma potete personalizzare. Io aggiungo un cucchiaino di senape, un cucchiaino di miscela curry oppure un cucchiaino di curcuma, il succo di mezzo limone. Ora dovete solo mescolare il tutto e regolare la consistenza. Se la crema è troppo densa aggiungete un po' d'acqua e mescolate ancora. Una volta che siete soddisfatti della consistenza potete mettere il vostro dressing sull'insalata. Ma non solo, questo dressing è super versatile. Potete usarlo come marinatura per il tofu o tempeh, come dressing per la pasta fredda o insalata di riso fredda, come salsa per un dip di verdure fresche e come salsa per le verdure grigliate. Ora capite perché io non riesco a farne a meno di questo bellissimo ingrediente? Perché è veramente super super versatile. Come ultima ricettina vi propongo questo latte di sesamo antispreco, ci sarebbero tantissime altre ricette ma il video verrebbe troppo lungo. La chiamo una ricetta antispreco perché una volta che finisco di fare la tachina di solito rimane ancora un po' di crema sui bordi del bimbi. Allora senza lavarlo aggiungo semplicemente ancora un po' di tachina, circa mezzo cucchiaino, mezzo cucchiaino di cannella, circa 300 ml d'acqua e qualcosa per dolcificare che può essere un dattero oppure una manciata di uvetta. Frullo per circa 20 secondi e il mio latte di sesamo antispreco è pronto. E anche in questo caso potete personalizzare in base alle vostre preferenze. Ragazzi io spero tanto che dopo aver guardato questo video darete una possibilità alla crema di sesamo e se vi piacciono le ricette di autoproduzione vi ricordo che è una playlist che si ma passione autoproduzione. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima ricetta veggie!